Abbiamo oggi incontrato le istituzioni, il Presidente, il Consiglio Presidenziale, il Ministro degli Esteri, esprimendo tutto il sostegno per la lotta contro un nemico comune che è Daesh. Ma la priorità, come c'è stato ripetuto varie volte, è che sono le forze libiche a liberare il paese da Daesh. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.